Stai ammirando la qualità che vogliamo offrirti, quella che rivela lo splendore, la lucentezza, la brillantezza che puoi ottenere ogni volta con Finish Quantum. Perché siamo convinti che anche da un semplice lavaggio in lavastoviglie ti meriti un risultato impeccabile. Sempre. Finish, la perfezione del diamante. Da Lidl, più che mai, freschezza, qualità e convenienza senza pari. Da domani, cesoia da giardino, con batteria ricaricabile, pratica, leggera, dotata di manico telescopico, con due lame interscambiabili per erba, cespuglie e bordi, a soli 39 euro. Lidl, ogni giorno è speso bene. Lidl Ora il tuo mondo internet viaggia con te, con Alice Mobile di Tim. Navighi da subito a oltre 7 mega di velocità. Abbonati, la chiavetta internet è inclusa. Tim, tu, senza confini. È inevitabile. Per il profumo di Nuovo Bolt c'è chi perde la testa. Ah, l'irresistibile profumo di Bolt. Nuovo Bolt, il profumo più irresistibile della Terra. Fernovus Saratoga. Vernicia sulla ruggine senza carteggiare e non cola. Cosa state facendo? Sto verniciando e Giovanna mi aiuta. Brava, Giovanna, brava. Fernovus Saratoga. Nuvolari e bruno di colore, nuvolari all'almascherato dal limite. Corre se il piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui, fa sempre 7. Con l'Alfa rossa fa quello che vuole, dentro un fuoco, dicendo saete. Quando corre, nuvole all'almascherato dal limite. Quando passa, nuvole all'almascherato dal limite. Quando passa, nuvole all'almascherato dal limite. A 20 giorni dal voto. Cosa vi serve per decidere? Volete sapere cosa faranno i candidati per salari, tasse, trasporti? Ma avete già deciso? O esiste ancora qualcosa che può farvi cambiare idea? Domani alle 21 su Rai 3. A Ballarò. Il commissariato spacca Napoli e è sempre al lavoro. Bevi tutti in polizia! Bevi! Sera! Una giovane donna muore tragicamente. Una donna ha abortito, non si sa dove. Sua moglie non è rimasta incinta per caso. Chi l'ha operato ha fatto un macello. L'inesperienza a volte gioca dei brutti scherzi. Stop! Ho preso la vicina di mio padre! Sergio mi deve aiutare. Mi stai ricattando? Io lo chiamo Baratta. È la nuova squadra. Mercoledì alle 21 su Rai 3. Gran Modus. Grande dentro. Con radio CD e clima a 11.990 euro. E in più su tutta la gamma Renault. Puoi scegliere il finanziamento con tre anni a tasso zero o con tre anni di assicurazione, furto, incendio e in omaggio. Ma solo fino al 31 marzo. Pensa a quanto ti è costato trovare l'equilibrio. Perché perderlo? Oggi puoi mantenerlo anche a tavola. Equilibrium di Aya unisce a tutto il gusto degli affettati un ridotto contenuto di grassi e tutta la leggerezza delle carni bianche. Equilibrium di Aya. Il nuovo benessere. Inizia a tavola. Volkswagen Passat, Variant e Berlina. Da che parte stai? Oggi con filtro antiparticolato e climatronica gratuiti su tutta la gamma. Il potere di stanza. Gillette Fusion Power Stanza. Fusion Power è così avanzato da farti sentire appena nell'aria. Le micropulsazioni ti aiutano a ridurre l'attrito migliorando lo scorrimento del rasoio. Sentirai la differenza. Il comfort di 5, la precisione di 1. Gillette Fusion Power. 6 airbag. ESP. Climatizzatore. Impianto Wi-Fi con comandi al volante. Motore 1.6 HD Fab. 25 chilometri con un litro. Premio volante d'oro in Germania. Nuova Peugeot 308 Premium. Nature efficace. Tu ha 15.990 euro con 180 euro al mese. 5 anni di garanzia. 5 anni di manutenzione. Sei uno sballo. Ti lascio sola per 30 secondi e tu scarti come un giovanotto. Ti vorrei parlare. È troppo tardi. Sa tutto. Siamo innamorati. Lei è innamorata. Per te invece è soltanto un affare. Puoi guadagnare. Guadagnare cosa? Mezzo milione di dollari per uccidere mia moglie. Se tu muori, lui eredita oltre 100 milioni di dollari. Primo o poi, suo marito sarà completamente rovinato. Alle dieci precise, io chiamerò. Tu entrerai e... E se invece non ci fosse un domani? Due gestori per un contrato. Due gestori per un contrato. Due bollette per un zito. Sette spose per sette fratelli. Lei ha vinto cinque volte. Cinque piaci. Ha chiamato sempre. Ha chiamato. No, no. Ho chiamato solo due volte perché alla fine ho detto qua... C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non mi quadra. Io ho denunziato oggi a livello nazionale che si facevano delle gare d'appalto pilotate. Fatti sentire. Mi manda Rai 3. Venerdì alle 21.